Non è una novità in assoluto, ma che cosa succederà durante gli inni nazionali? Oddio, c'è la terza volta, ho già dato due paghe, ma che vada ne prendo una. Onestamente l'emozione non c'è, anche l'inno nazionale viene a cantare, però sto zitto, quindi lo seguo con circospensione. Onestamente per fortuna ho già vissuto queste due cose. È stato emozionante la prima partita di World League, incontrare i ragazzi, ma adesso ti confesso che sono un più biavo Cervone, sono molto tifo per la Polonia. È una semifinale però con tanti incroci? Sì, decisamente, penso che sia un bellissimo risultato per le squadre. Onestamente arrivare qui a Vienna è un successo, perché in Europa sta diventando realmente complicatissimo andare avanti, complicatissimo qualificarsi nelle prime posizioni ed esserci arrivati, per quanto mi riguarda, dopo un'estate comunque molto complessa all'inizio e con dei buoni risultati, sono felice di essere ancora qua. Mi piacerebbe vincere una medaglietta, perché vincere una medaglia con la Polonia mi piacerebbe, anche se ora sono... però, vediamo. L'Italia sarà almeno quarta, esattamente come l'avevi lasciata tu. C'è un rimpianto, una rivalsa da parte tua? Assolutamente no, assolutamente no. Io ho fatto il mio percorso ed era giusto cambiare, secondo me. Non c'erano le presupposti per andare avanti, da parte mia sicuramente, da parte della federazione anche, quindi realmente non ho nessun tipo di rimpianto, anzi quando vedo i ragazzi italiani mi sa che non è piacere, tutti i ragazzi che erano con me, guardavo oggi le roster, i tre centrali che sono qua erano tutti con me in mondiale, i quattro ricettori erano tra i cinque ricettori, purtroppo l'ho lasciato a casa Gabriele, ma erano tra i cinque ricettori che ho lavorato con me tutto l'estate. L'alleggiatore, a parte Draga, che è stato con me, Draga non l'ho supportato fin dall'inizio, ho sempre creduto in lui, ahimè, so che gioca bene, so che domani giocherà bene. Stesso Micah, insomma, un giocatore che ho sempre creduto tanto, un ragazzo straordinario, quindi non riesco a provare ribalsi, c'è che nella mia vita e nello sport in generale posso perdere, posso arrabbiare, ma mi piace avere rispetto per i giocatori in generale, mi piace vedere i giocatori bravi giocare, quindi realmente non ho grandi ribalsi, perché doveva vero, ho la fortuna di essere ancora qua, ho già vinto una medaglietta alla World League, quindi perché devo essere invidioso di che io, che ormai il mio curriculum di averlo, la mia professione riconosce, anzi penso proprio di riconoscerla bene, ci sono qua anche per questo. Perdonami, ma faccio fatica a credere che non sia comunque una partita speciale. Non è speciale, perché per me è interessante giocare la finale, a me non interessa nulla che ci sia l'Italia dall'altra parte, spero di andare in finale, ma se ci fosse, ti confesso che quando ho giocato con la Cicca e con la Slovacchia, con una partita di entra e fuori, la stessa emozione, sarebbe sbagliato, forse la partita più funzionante per me è stata con la Slovacchia di Emanuele, perché per me Emanuele non è un attore speciale, quindi è inevitabile che con lui ho realmente qualcosa di diverso, andare in conferenza stampa con Emanuele per me è particolare, con lui, ma onestamente io spero di andare in finale, ovviamente mi dispiace per il pubblico italiano, farò di tutto per andare in finale.